Velocemente con le prime testimonianze dai territori, con i primi appunti di questa agenda e di questo programma conservatore. Chiamo subito sul palco il sindaco dell'Aquila, l'amico, il militante di sempre, di Fratelli d'Italia, Berluigi Biondi. Buonasera, mi sono ripromesso che quando non sia strettamente indispensabile non parlerò di terremoto e non parlerò dell'esperienza di dolore e di lutto della città dell'Aquila, ma parlerò del modello dell'Aquila. Un modello dell'Aquila che riguarda il tema delle città medie e il tema delle aree interne. Le aree interne che sono finite in un modello che si chiama Carta dell'Aquila e che è stato raccolto all'interno del documento che ci è stato consegnato in occasione dell'avvio di questa conferenza. Credo che, ugualmente alla questione meridionale di cui ha parlato anche la leader del nostro partito, ci sia oggi una nuova questione che riguarda il problema dei rapporti tra le aree interne e le grandi aree meropolitane. Nelle aree interne si trova un'Italia profonda, in quei posti ruvidi, aspri, difficili si trovano comunità forti, vigorose e resistenti, comunità in grado di sopravvivere anche alle contrarietà dei territori, all'assenza di servizi, alla scarsità dei servizi, alla carenza di offerta sanitaria, di trasporti, di formazione. Ma in quelle aree interne si trova anche, e lo dico a chi ci ascolta e anche un po' al partito, si trovano anche decine, centinaia di sindaci e di amministratori locali che magari non sempre hanno avuto lo stesso percorso fatto da molti di noi all'interno della militanza, della storia di passione della destra repubblicana e nazionale, ma che sono essi stessi classe dirigente, sono classe dirigente di amministratori che hanno scavato tra le macerie, che hanno lottato e che continuano a lottare per la ricostruzione dei territori, che difendono con i denti le attività produttive di quei territori, che si incatenano ai caselli autostradali a causa delle inadempienze dei governi, che si occupano anche dell'accoglienza dei profughi, dei profughi afghani, dei profughi ucraini e che magari anche inconsapevolmente danno vita e sostanza a quel patriottismo comunale di cui parla il documento che il Dipartimento Enti Locali dell'ottimo Guido Castelli ha predisposto in occasione di questa conferenza. È una classe dirigente profonda e troppo spesso sconosciuta che assolvia la funzione più importante e più alta a cui può aspirare un patriota, che è quella di ricostruire i territori, che è quella di ricostruire la patria, che è quella di ricostruire le comunità. E di questo il nostro partito dovrà tenere conto se effettivamente vorrà diventare come vuole diventare il partito della nazione e il partito dei territori. Grazie.